Dopo il collaudo della centrale operativa è entrato in funzione l'imponente sistema di videosorveglianza a Silvi, installato nella sede del comando della polizia locale. 48 le telecamere ad alta risoluzione abilitate alla visione e riprese notturne installate tra il centro e le frazioni. 6 di queste con sistema OCR sono state posizionate nelle vie di accesso alla città e abilitate al controllo delle targhe, dell'assicurazione e della revisione, essendo adibite alla segnalazione in tempo reale delle auto rubate. Le restanti 42 telecamere sono invece finalizzate ai controlli di pubblica sicurezza. Certamente con l'attivazione del sistema di videosorveglianza negli ultimi giorni abbiamo dato una svolta sulla sicurezza di questa città. 48 telecamere attive, di cui 6 agli ingressi della città, che monitoreranno attraverso un alert su un sistema di intelligenza artificiale che contribuirà a visionare e valutare tutti gli ingressi, soprattutto di quelle autovetture o rubate oppure prive di assicurazioni e revisioni. È un servizio importante che è garantito dalle forze di polizia attraverso una sala contro il RUM e il comando di polizia locale. Daremo questo contributo soprattutto per la sicurezza della città. Avremo una città molto più sicura. Già dalle prime ore siamo intervenuti, grazie a queste immagini di videosorveglianza, su danni e atti vandalici del patrimonio pubblico della città. Un intervento importante, soprattutto con la collaborazione delle forze di polizia, in questo caso della polizia locale. Oltre alle telecamere già installate dal comune sarà possibile aggiungerne altre su richiesta e finanziamento di privati, fino a raggiungere un totale di 170 dispositivi. Attualmente sono circa 40 i cittadini che hanno già espresso il loro interesse a mettere a sistema i loro apparati. Si tratta di un sistema molto avanzato che consente, attraverso un server che abbiamo appositamente richiesto alla ditta che installatrice, su esplicita volontà dell'amministrazione, che consente di, attraverso il cosiddetto bando adotta una telecamera, di implementare la sicurezza cittadina. Quindi chi volesse, privato, può, attraverso una domanda, che è in corso di pubblicazione, offrire il proprio contributo e quindi consentire una maggiore sicurezza della cittadina.